Il DDL Sicurezza non ha nessuna misura al suo interno che garantirà maggiore sicurezza. Esprime solamente lo spirito e l'intento repressivo e reazionario di questo governo. Ci sono delle norme davvero assurde. Basti pensare che si punisce pesantemente in modo penale la resistenza passiva di chi è detenuto in carcere. Ad esempio il fatto di rifiutarsi di rientrare nella cella, stare seduti oppure magari fare un digiuno. Consideriamo che le condizioni delle carceri italiane sono delle condizioni di illegalità delle quali lo Stato è responsabile. Lo stesso vale per i migranti che non hanno commesso reati ma che sono rinchiusi nei CPR, nei centri per il rimpatrio. Anche loro saranno puniti penalmente per delle azioni di resistenza passiva che vengono equiparate in tutto ad azioni violente ma sono in realtà delle azioni assolutamente non violente. C'è una follia all'interno di questo decreto, di questo disegno di legge da parte del governo. È una follia completamente repressiva e inutile a perseguire lo scopo di una maggiore sicurezza. Pensiamo anche a quello che si fa rispetto alla cannabis cosiddetta light, cioè quella che non ha effetto drogante, che ha un basso contenuto di DHC, di cui viene sanzionata penalmente la vendita e la cessione, mettendo così in crisi un settore economico che si è sviluppato negli ultimi anni e che conta 15.000 lavoratori, migliaia di imprese e un giro di fatturato di circa 150 milioni di euro l'anno. Tutto questo perché? Per un'ideologia repressiva che è quella del governo che va anche a ledere gli interessi di migliaia di lavoratori che perderanno il posto di lavoro.